leggere un libro può essere interessante nella misura in cui gli argomenti trattati o gli eventi narrati ci riguardano ci appassionano perché li sentiamo nostri il titolo di questo libro sembra quasi essere una provocazione levate è tuo è un invito alla lettura di una storia quella del nostro paese l'autore desidera invogliarci alla lettura di questo volume proprio perché quello che vi è scritto appartiene anche a noi a me e a te che stai leggendo in questo momento levate appunto tuo perché tu vivi in questo paese in questa piccola cittadina di campagna vi trascori le tue giornate e condividi con gli altri non solo un piccolo lembo del territorio bergamasco ma uno stile di vita servizio opportunità fatiche e consolazioni gioie e dolore della gente che vi abita per qualcuno forse questo tipo di appartenenza è solo marginale si ritorna in paese solo per riposarsi e dimorare tranquilli nella propria casa dopo una giornata di lavoro si conoscono i vicini gli impiegati del comune forse qualche negoziante per altri c'è anche la condivisione di altre realtà la scuola dei propri figli la parrocchia e magari anche qualche associazione culturale o di volontariato ci sono poi coloro che si sentono molto partecipi della vita del nostro piccolo borgo perché impegnati nel sociale nella politica o nella missione della parrocchia infine ci sono quelli come me che pur vivendo gran parte del tempo in un'altra città e sono spesso lontani assente per altri ingombenze o nuovi legami sentono tuttavia di appartenere profondamente a questo paese i motivi possono essere tanti forse perché vi sono nati cresciuti e sono consapevoli di aver ricevuto molto di più di quanto hanno potuto dare un'appartenenza che nasce dalla gratitudine di legami che hanno segnato positivamente il proprio futuro è certo che il nostro senso di appartenenza il nostro amore per il borgo in cui viviamo dipende sempre da tante cose ma soprattutto dalla nostra storia credo che almeno in parte scaturisca spontaneamente da come la nostra vita sia stata in qualche modo raggiunta e condizionata dalle vicende del paese dalla sua gente dalle sue tradizioni dagli eventi lieti o tristi che ogni comunità vive ma penso che questo dipenda anche dal nostro senso di responsabilità dall'essere consapevoli che il benessere attuale ma anche il futuro di un paese dipende anche da noi dal nostro contributo della nostra partecipazione piccola o grande che sia è certo che rimane sempre la possibilità e la libertà di sentirsi estranei ad ogni vicenda del proprio comune e di avere un giudizio tutt'altro che positivo sul paese di origine o di residenza la storia di levate è una storia semplice ordinaria senza grandi personaggi o accadimenti è il racconto di gente che senza presunzione o falsa umiltà ma con onestà e sacrificio ha saputo far crescere la propria famiglia e il proprio comune uomini e donne ben descritti anche in questo libro alcuni di questi nostri paesanni li ritroveremo tra le pagine del testo per la stragrande maggioranza rimane l'anonimato nella certezza che la storia anche di un piccolo paese come il nostro è fatta di tante persone che giorno dopo giorno hanno contribuito a realizzare tutto quello che oggi è sotto i nostri occhi non solo strade o ponti case o piazze ma anche tutto il patrimonio morale e spirituale che ogni uomo si trova ad avere gratuitamente quando viene al mondo e chi darà senso e significato alla sua vita come a quella delle precedenti generazioni ringrazio simone trapani per questo volume per il suo lavoro di approfondimento e di sintesi un atto di amore verso il nostro paese per cui gli siamo grati di certo un ottimo aiuto per la conoscenza di levate della sua storia in particolare per tutti i cittadini antichi e nuovi il nostro augurio parafrasando quello che l'autore scrive nel suo libro e che questa storia assieme ad altri della storia di levate possono alimentare l'attaccamento alla terra alle sue donne e ai suoi uomini nutrendola di simpatia di attrazione e dedizione un invito a continuare a solcare le strade del nostro paese sapendo riconoscere nei sentieri di campagna come nelle vie del centro storico sul volto dei più piccoli come su quello degli anziani un presente carico di storia ma proprio per questo gravido di futuro e di speranza un passato che ci ricorda che il futuro di levate appartiene a tutti noi levate e anche tuo